ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ebbene sì il 14 gennaio 2020 microsoft chiude il supporto per windows 7 quindi se non vogliamo incorrere in rischi di sicurezza e avere un sistema operativo stabile quello che vi consiglio di aggiornare subito a windows 10 vi farò vedere come aggiornare windows 10 senza perdere i programmi installati e i nostri file andiamo a vedere il video tutorial lasciate un bel like alla fine del video se vi è piaciuto iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video cliccate su mostra altro scorrete giù qui ragazzi ho lasciato il file di attivazione licenza di windows 10 per tutte le versioni quindi se volete attivare windows basterà cliccare su questo link attendere 5 secondi cliccare su continue se ve lo chiede cliccare su avanti cliccate ora su scarica una volta che avete scaricato il file di attivazione licenza potete chiudere la pagina mega e aprire una nuova scheda dobbiamo scrivere ora scarica windows 10 e dare invio dobbiamo cliccare ora sul primo link scarica l'immagine disco di windows 10 file iso adesso dobbiamo cliccare su scarica ora lo strumento andiamo ad aprire il tool per scaricare windows 10 clicchiamo sì e possiamo chiudere il browser attendiamo le operazioni preliminari qui intanto vi faccio vedere che ho due programmi sul desktop pdf24 utorrent e un'immagine una volta che avremo aggiornata windows 10 vi farò vedere che non verranno eliminati dobbiamo cliccare ora su accetta attendiamo ancora circa un minuto ok ora dovete lasciare il pallino blu su aggiorna il pc ora e cliccare su avanti ok ora dovete lasciare il pallino blu su aggiorna il pc ora e cliccare su avanti grazie 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 ora dobbiamo accettare le condizioni di licenza cliccando su accetta ora dobbiamo cliccare su installa ora dobbiamo cliccare su installa video dopo vari riavvi ci troveremo nella schermata gratificazione del nostro software servizi dove ci chiederà se vogliamo usare il riconoscimento vocale online. Possiamo cliccare su usa il riconoscimento vocale online oppure scorrere giù e cliccare su non utilizzare il riconoscimento vocale online. Io clicco su usa il riconoscimento vocale online e clicco su accetta. Qui ci chiede se vogliamo consentire alle app di utilizzare la nostra posizione. Questi ragazzi sono dati facoltativi. Io clicco sì perché utilizzo delle app dove mi occorre la posizione. Voi potete anche cliccare su no e cliccare su accetta. Questo ragazzi è anche facoltativo. Trovo il mio dispositivo come su Macbook, Android, anche su Windows 10 potete attivare trovo il mio dispositivo. Cliccate su sì e su accetta per attivarlo. Qui ci chiede se vogliamo inviare dati di diagnostica a Microsoft. Io clicco su base e su accetta. Qui clicco su no e su accetta. Anche qui clicco su no e accetta. Anche qui clicco su no e accetta. Anche qui ok ragazzi. Windows 10 è stato installato. La prima schermata che vi apparirà è il nuovo browser Microsoft Edge. Per chi volesse usare Chrome può scaricare Chrome. Come vedete io ho ancora Google Chrome nella barra delle applicazioni. Quindi non è stato rimosso. Minimizzo Edge. Vediamo che il software PDF24 non è stato rimosso. U-Torrent nemmeno. E nemmeno l'immagine che avevamo sul desktop. La prima cosa che vi consiglio ragazzi, questa è una cosa facoltativa ma secondo me molto importante, è disattivare gli aggiornamenti delle app. Questo perché? Perché Windows 10 ha delle app predefinite e il 70, 80, anche il 90% di queste app non le userete mai. Quindi non fanno altro che andare a riempire il vostro hard disk o SSD, quello che avete. Quindi vi consiglio assolutamente di disattivare gli aggiornamenti automatici. Per farlo andiamo qui sulla barra delle applicazioni e clicchiamo sul Microsoft Store. Dobbiamo cliccare sulle tre linee accanto a Home. Scorrere giù e cliccare su Impostazioni. Disattivare e aggiorna le app automaticamente. Io disattivo anche il riquadro animato. Questo è facoltativo. Anche video autoplay. Anche questo è facoltativo. L'importante è che vi consiglio la prima voce. Aggiornare le app automaticamente. Possiamo chiudere. Alla fine se userete un'app che richiede un aggiornamento, farete l'aggiornamento su quella specifica app senza andare ad installare tutti gli aggiornamenti possibili. Ora ragazzi dobbiamo andare a cancellare la cartella Windows Hold. Andiamo nella barra delle applicazioni. Clicchiamo su Explorer File. Clicchiamo su questo PC e su Disco locale C. Doppio clic. Come vedete abbiamo la cartella Windows Hold. Per eliminare la cartella Windows Hold non basterà cliccare col tasto destro e poi su Elimina quindi dovremmo fare in altro modo. Torniamo indietro clicchiamo col tasto destro su Disco locale C clicchiamo su Proprietà e su Pulizia Disco Dobbiamo cliccare ora su Pulizia File di Sistema e attendere. Ora dobbiamo cliccare su Installazione di Windows precedenti andiamo a cancellare anche file di registro dell'aggiornamento di Windows e clicchiamo su OK clicchiamo su Eliminazione file in questo modo in questo modo riusciremo a eliminare la cartella Windows Hold. Qui clicchiamo su Sì possiamo chiudere ora la finestra delle proprietà andiamo ancora su Disco locale C e come vedete la cartella Windows Hold è stata eliminata ragazzi il video tutorial finisce qui se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi se volete lasciate un commento ciao e alla prossima iscrivetevi